Ciao a tutti, sono Gabriele, uno studente di scienza della comunicazione, ho appena assistito alla convention, diciamo, la tenuta da Luca Bete, su Non ci ferma nessuno e volevo esprimere la mia positività intanto perché è bello avere qualcuno, una qualche personalità arrivata nel suo obiettivo, che ti viene a dire di persona come ha fatto, perché appunto da spettatore chi assiste alla visione di questi personaggi molte volte pensa che siano fatti e spuntare fuori così da nulla, quindi avere qualcuno che ti viene a dire le difficoltà che ha avuto, anche i modi che ha utilizzato per sopperire a queste difficoltà è molto bello e sicuramente potrà darmi un grande spunto, bisogna pensare che non è finita, che c'è sempre qualcosa di peggio e se non ci muoviamo sicuro non ci riusciamo e non ci ferma nessuno.